una volta inserita la provincia per esempio Reggio Calabria il sistema dice sono state riscontrate sedi nella provincia Reggio Calabria significa che il sistema ha individuato il soggetto che sta compilando la domanda come inserito in GAE facendo avanti si entrerà in primis in una pagina dove ci saranno tutti i dati personali dell'aspirante alle supplenze di prima fascia di istituto facendo ancora poi avanti si entrerà nella vera e propria domanda per la compilazione delle scuole quindi dopo due pagine di dati personali riferiti al nome, il cognome e tutti i dati personali della persona come recapiti telefonici, indirizzi mail e quant'altro si arriva nella acquisizione della domanda dove il docente è graduato, inserito nella prima fascia per quanto riguarda la scuola primaria perché è l'unica gradatoria esprimibile per cui la lista degli insentimenti in questo caso, in questo specifico caso è una sola gradatoria quella della scuola primaria e basta però ci possono essere anche altre situazioni in cui ci sono più classi di concorso facendo ancora avanti si entra nell'acquisizione proprio della domanda che ci dà la possibilità di inserire gli istituti dice, attenzione, la normativa prevede un massimo di sedi pari a 10 nel caso in cui siano state richieste solo gradatorie della scuola dell'infanzia e primaria è un massimo di 20 sedi in tutti gli altri casi utilizzare il tasto elimina solo nel caso in cui il numero di scuole supera rispettivamente le 10 oppure le 20 unità dunque nel caso specifico della scuola primaria le sedi sono pari a un numero di 10 per le altre classi di concorso un numero di 20 andiamo a inserire un istituto facciamo inserisci istituto selezioniamo il comune per esempio quello di Reggio Calabria vediamo di selezionare una scuola primaria e vediamo di cercare gli istituti della scuola primaria per esempio c'è il convitto nazionale Campanella che si può per esempio tranquillamente esprimere oppure se non si vuole esprimere si può fare una ricerca diversa facendo inserisci istituto si inserisce l'istituto ma si può fare anche una diversa scelta facendo invece che primaria istituto comprensivo facendo cerchi istituti dell'istituto comprensivo ecco che si aprono una serie di istituti dove c'è anche il grado della primaria e qui se ne possono scegliere più di uno ovviamente per esempio si può scegliere Catona si può scegliere il Don Bosco però chiaramente la selezione deve essere fatta una alla volta per esempio facciamo quella di Gallico inseriamo prima Gallico e diciamo che siamo disposti ad andare a Gallico anche per supplenze inferiore ai 10 giorni inseriamo e subito ci viene data questo primo codice poi ripetiamo l'operazione per altre volte in modo tale da poter scrivere anche altre scuole e dunque inserire per esempio sempre con istituti comprensivi altre scuole del comune di Reggio Calabria per esempio lo Spano Bolani inseriamo e gli diamo anche di gradatorie ecco e lo abbiamo inserito e dunque abbiamo una seconda scuola vedete che il sistema sta acquisendo a una a una le scuole andiamo a inserirne una terza e così via fino ad arrivare alle scuole andiamo sempre sul comune per esempio di Reggio Calabria ne mettiamo un'altra poi ne metteremo altre ancora però tanto per far vedere come inserirle e dunque inseriamo cerchiamo questi istituti inseriamo per esempio un istituto comprensivo cercando gli istituti un altro istituto comprensivo per esempio la Nossi del Moscato piuttosto che la Cassiodoro che inseriamo subito dice selezionare disponibilità sì o no in questo caso diamo no tanto per scegliere cose diverse e così facendo possiamo fare anche col tasto avanti per una volta conclusa inserire facciamo avanti e inoltriamo la domanda speriamo che questo video tutorial sia stato utile ai nostri telespettatori seguiteci ancora nei nostri canali social di Facebook, di Youtube nel nostro sito www.tecnica.scuola.it perché daremo tante notizie a riguardo di questa procedura ma anche di altre procedure che nel mese di maggio saranno numerosissime